Bene, 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 signore, stile vecchio, come fare a innamorare un uomo nel 2024? Quest'oggi voglio parlarti, quindi a te che stai guardando questo video oggi, di come fare a innamorare gli uomini nel 2024. Se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, esperto in relazioni sentimentali e rapporto uomo-donna e sono l'esperto number one in Italia. Ok, fino a prova contraria, non ci sono prove contrarie, quindi è abbastanza ovvio che io sia il king della seduzione. Ma parliamo di come fare a innamorare un uomo nel 2024 e quindi di qual è l'approccio giusto che dovresti avere con un uomo per far sì che questo possa davvero poi innamorarsi e prendersi di te. L'analisi di cui ti voglio parlare è un'analisi che riguarda una dinamica importantissima. Questa dinamica è la dinamica del riflesso. Tu dirai, ma riflesso cosa significa? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un riflettere, rispecchiare, replicare. Cosa significa riflettere, rispecchiare e replicare? Forse stiamo parlando del mirroring. Allora, vedi, il mirroring è un atteggiamento chiave con gli uomini che ti può davvero far cambiare le carte in tavola di quello che succede con l'altro ragazzo. Se vuoi fare innamorare un uomo, che sia un ragazzo che stai frequentando, un ragazzo che è appena conosciuto o altro, devi assolutamente essere in grado di utilizzare il mirroring nel modo corretto. Quindi, replicare, fare mirroring, cosa significa, cosa vuol dire? Vuol dire riflettere lo stesso stile dell'altra persona. Allora, se io devo pensare a un riflesso, quindi, o al mirroring, mi viene da pensare che mi sto specchiando, no? Mi sono davanti allo specchio e che quindi vedo la mia stessa immagine riflessa. Se volete un po' di caffè. Qui c'è il caffè. E ora, vedere la mia stessa immagine riflessa significa avere davanti a me la stessa identica cosa. Ora, non è che tu ti devi comportare, truccare, vestire come un uomo se sei davanti a un uomo per farlo innamorare. No, non è questo quello che intendo. Ma intendo riflettere quelli che sono degli atteggiamenti neutrali. Quindi non hanno genere, non hanno, tra virgolette, casa. Questi atteggiamenti quali sono? Sono atteggiamenti non verbali. Sono atteggiamenti, per esempio, che puoi adoperare, utilizzare all'interno della parte in chat. Sono atteggiamenti che puoi utilizzare in diversi ambiti, quindi puoi riflettere, in diversi ambiti e in diverse sfere con il ragazzo che stai frequentando. Allora, la prima sfera sarà quella comportamentale, quella degli appuntamenti, poi sarà quella dei messaggi, poi sarà quella del farsi i regali, del corteggiarsi, della comunicazione. Cioè, vedi come sto ramificando. Parliamo quindi del mirroring in modo più approfondito. Mirroring significa che io rifletto quello che fai tu. Allora, pensiamoci un attimo. Se io rifletto in modo verbale, cosa posso fare? Posso utilizzare gli stessi identici, scusami, le stesse identiche parole che tu stai utilizzando con me nei miei confronti. Quindi, per esempio, se siamo a tavola e stiamo parlando, un approccio funzionale che crea, quindi, familiarità e quindi fa innamorare un uomo è usare le stesse parole che usi tu. Se, per esempio, mi stai parlando, non so, di come ti piace, che ne so, il caffè perché è buono, ha un odore particolare, un odore di cioccolato, quel tipo di gusto di caffè, io riprenderò quella frase che hai detto tu. Ah, quindi mi stai dicendo che quel caffè ha un sapore di cioccolato addirittura? No? E quindi ho ripetuto la tua stessa identica, tra virgolette, il tuo stesso identico termine. Te l'ho riflettuto, riflettuto si può dire, te l'ho riflesso. Credo sia riflesso. Quindi ti ho rispecchiato davanti a te la stessa identica cosa. Ora, questo metodo, ovviamente, non è che deve essere fatto in modo palese, tra l'altro non deve essere fatto con persone che sono molto avvezze, che sono poche, non troverai tanti uomini che sanno, conoscono le strategie di istituzione, però stai attenta perché utilizzarlo magari con me, no? Mi ricordo alcune persone magari lo utilizzavano con me, lo applicavano con me, io era abbastanza palese che lo vedessi e mi stranivo anche, mi fastidivo anche, mi incazzavo. Diciamo che puoi usarlo con il 95% degli uomini, quindi puoi riflettere le parole, riflettere gli atteggiamenti, eccetera, non se ne accorgeranno, non sarà una cosa molto impattante in linea generale. Poi, andiamo a vedere quindi altre cose dove puoi utilizzare il mirroring. Nel modo di porsi, quindi non verbale, quindi se parliamo del linguaggio non verbale, parliamo di che cosa? se io sono a tavola e stiamo quindi cenando, siamo lì, siamo in questo modo, supponiamo che io mi ponga magari davanti a te in questo modo e stia parlando con te in questo modo, vi metto così mentre ti sto comunicando. Mentre ti sto comunicando in questo modo, che cosa faccio? ovviamente mi porgo in avanti e tu mi dirai sì, ok, il mirroring vuol dire che devo rifare la stessa cosa nello stesso momento? No, datti una tempistica o addirittura una latenza. Cioè, per esempio, se io lo faccio subito così, mi porgo in avanti, quindi sto facendo mirroring per chi sente la versione solo audio di questo video, mi metto quindi in avanti, mi porgo in avanti con il busto verso di te, tu non è che poi subito ti porgi in avanti allo stesso modo. No, tu puoi aspettare, quindi darti una latenza, magari farlo dopo 20-30 secondi, mentre stiamo parlando a tavola, ok, oppure semplicemente puoi addirittura farlo in latenza, cioè nel senso farlo dopo molto tempo o magari dopo che io ho smesso di farlo, quindi supponiamo che io stia in avanti col busto, mi porto indietro, ok, e tu poi lo fai, quindi stai facendo un mirroring di latenza, lo fai quando io ho smesso di farlo, ho smesso di pormi in avanti con il busto. Questo approccio, quindi questo stile, è uno stile che ti può consentire di sviluppare una sensazione quindi di familiarità, cioè tu puoi fare innamorare un uomo utilizzando il mirroring più volte in diversi contesti. Adesso abbiamo visto quindi la parte comportamentale di persona, si può applicare anche per esempio se state passeggiando, una cosa ridicola che ti potrebbe far sorridere è utilizzare il mirroring quando state camminando, magari state camminando, state passeggiando e tu rifletti lo stesso passo, camminate quasi all'unisono col passo. Anche quello è un piccolo, una piccola traccia ma importante del mirroring. Ok? Quindi stai facendo mirroring anche in piedi, anche al fianco di questo ragazzo che stai frequentando, o di tuo marito o del tuo compagno. La sensazione di familiarità aumenta ovviamente la possibilità che quest'uomo quindi questo ragazzo si innamori di te. Ok? E ripetuta più volte in modo inconscio vai a entrare quindi nel suo inconscio e gli vai a far capire che tu risalti fra le altre. Quindi il mirroring non verbale in questo caso e verbale è uno strumento che vuoi assolutamente utilizzare per fare innamorare un uomo. Ma andiamo avanti perché c'è di più. Questa cosa non deve essere fatta o non può essere fatta solo per esempio all'interno no? Della ah ok solo a tavola solo in chat no? Puoi farla anche per esempio col vestiario con i colori e tu mi direi ma che mi devo vestire allo stesso modo suo? No! Però i colori possono replicare un senso di familiarità. Se io ho per esempio una tendenza a preferire il nero e mi vesto magari tendenzialmente sempre con i jeans o mi metto sempre delle camicie un po' bizzarre io non dico che tu devi metterti le camicie bizzarre che si mette pure lui in quel caso però per esempio la parte dei jeans può essere uno stile che può assecondare la percezione di familiarità e quindi farlo sentire ancora più no? legato a te. Facciamo quindi l'esempio del colore nero il colore nero è un colore che se utilizzato spesso da questo ragazzo può no? essere utilizzato magari anche da te iniziare a indossare cose che hanno un colore nero più volte magari una volta su due ogni volta che lo vedi questo è un mirroring in più che va anche sul vestiario stessa identica cosa accade però in altri ambiti ovvero per fare innamorare un uomo soprattutto in questo periodo dell'anno non è che il mirroring si può rifare e fare solo di persona o quando avete quando vi mettete il vestito eccetera quando vi vedete no può essere fatto anche in situazioni e in contesti via chat quindi parliamo del mirroring in chat la parte della chat quindi la parte della conversazione con un ragazzo segue anche lì una familiarità cioè andiamo a riflettere gli stessi tempi di risposta di questo ragazzo quindi se tu stai comunicando con lui stai parlando con questo ragazzo e tanto ti piace dovrai e proverai quindi a riflettere le stesse identiche tempistiche di risposta queste stesse identiche tempistiche di risposta saranno un'ulteriore aggiunta di mirroring per esempio ti risponde dopo tre ore vedi che la media di tempo di risposta da parte sua è tre ore barra cinque ore tu utilizzerai questo stesso identico stile e tempistica di risposta cioè tre ore barra cinque ore prima di risponderti a un messaggio simple as it is semplice com'è gli risponderai quindi con tutta la calma del mondo gli risponderai quindi con un approccio riflesso anche in chat stessa identica cosa accade quando utilizzi dei termini in chat o le emoji parliamo per esempio delle emoticon quindi le emoji le faccine che lui usa osserva quindi come lui comunica con te in chat e quante emoji usa e come le usa e quali usa e tu di riflesso fai la stessa identica cosa anche qui se tu per esempio non sai come comunicare in chat con un ragazzo per farlo innamorare vuoi utilizzare il mirroring come paragadute cioè nel senso non so come comunicare con lui mi sento preoccupata ho l'ansia non so che cosa devo fare vado a riflettere lo stesso atteggiamento e gli stessi metodi di comunicazione che usa l'altra persona in chat così mi sto adattando e mi sto riadattando a comunicare con questo ragazzo cioè io voglio far innamorare un ragazzo ok vado a utilizzare il mirroring bene quindi rifletto lo stesso stile di comunicazione che non sarà solo all'interno quindi della dinamica di persona ma sarà anche all'interno della dinamica in chat e quindi quali termini usa in chat vale lo stesso principio che ti ho appena detto per di persona quindi se lui in chat utilizza dei termini che sono magari che ne so cena fuori oppure top si utilizza delle intercalari top allora ogni tanto puoi dirlo anche tu se lui dice ok top oppure ottimo fantastico tu dirai dopo un po' ottimo fantastico in chat per esempio questa è la mia deformazione di solito ottimo 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 rispondo sempre così e la stessa identica cosa puoi farla tu quindi risponderai con ottimo magari se stai parlando con me in chat quindi questo modo di fare questo atteggiamento ti consente con il passare del tempo di avere un bilanciamento e creare familiarità quindi tempistiche di risposta dalle 3 alle 5 ore ti risponde ok tu gli risponderai entro 3-5 ore utilizza delle emoji particolari oppure non utilizza proprio delle emoji ok utilizzerai anche tu delle emoji specifiche o comunque ti riadatterai a lui ma devo copiarlo esattamente no assolutamente no non devi copiarlo assolutamente non devi ricopiare ma devi creare una latenza nel fare queste cose cioè se lui oggi utilizza le emoji quella dell'occhiolino e tu non l'hai mai utilizzata domani la utilizzerai anche tu ti stai quindi calibrando a livello di comunicazione per far sì che lui si innamori davvero di te questo è l'utilizzo corretto del mirroring di persona in chat di